Questo è il mese dedicato al Santo Rosario e alle missioni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Maria. Benedicimi, o figlia dell'Eterno Padre. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con i pensieri. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o Madre del Divin Figlio. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con le parole. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o sposa dello Spirito Santo. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con opere e omissioni. Anzi, fa che io l'ami con tutto il mio cuore e lo faccia anche amare dagli altri. Così sia, o dolce, o pietosa, o amabile Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A te, o Vergine Madre, che non fosti mai macchiata da alcun neo di colpa, né attuale, né originale. Raccomando e affido la purezza del mio cuore. Pratichiamo questo mese la santa purezza nel corpo e nell'anima. Nove ottobre Conseguenze delle piccole cose Conseguenza ad un atto virtuoso Pare un mistero affermare che la santità e il paradiso dipendono sovente da una piccola cosa. Ma Gesù non ha detto che il Regno dei Cieli è simile al piccolissimo grano di senapa, che poi cresce e diviene un albero. Non si vede in Sant'Antonio Abate o in Sant'Ignazio l'inizio della loro santificazione nel seguire una santa ispirazione. Una grazia ben accolta è l'anello che ti condurrà ad altre cento grazie. Ci pensi tu? Conseguenze d'un peccato veniale Dire che un solo di questi peccati può predisporti alla danazione sembra una stranezza. Eppure, non basta una scintilla a svegliare un gran fuoco. Non basta un piccolissimo microbo, magari trascurato, a condurre alla tomba un uomo. I peccati si succedono con troppa facilità. Sul pendio d'una montagna la caduta è troppo facile. L'esperienza altrui è la tua stessa vita. Ti dicono che il peccato mortale dista appena un passo dal veniale. E tu moltiplichi senza riguardo le venialità. Vuoi dunque averne a piangere un giorno? CAUTELE DEI SANTI SULE PICCOLE COSE Perché mai i cristiani ferventi mettono tanto impegno a moltiplicare le piccole giaculatorie, i piccoli sacrifici e a guadagnare le indulgenze per arricchire con ogni piccola gema la nostra corona celeste? E tu non puoi imitarli. Perché fugono fino allo scrupolo i peccati veniali e preferiscono morire prima di farne uno solo deliberatamente? Sono offese a Gesù anche i piccoli peccati. E come si può offenderlo sapendo che Egli ci ama tanto? Se tu davvero amassi Gesù non lo offenderesti con così grande facilità? PRATICA Ripeti durante il giorno questa breve orazione Gesù mio voglio essere tutto tuo e non offenderti mai più.